L'anteprima del nostro telegiornale, come di consueto vediamo insieme alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione, in apertura come sempre alla pagina della cronaca con il cane antidroga della polizia che ha trovato eroina in un deposito a casa Micciola. A largo di Anzio è emerso un corpo di un uomo nel mare, probabilmente si tratta dello skipper che è scomparso da qualche giorno da Capri. Ancora sulla questione decreto ed abusivismo edilizio, il dibattito è in corso sul decreto alla Camera dei Deputati e c'è stata una serie di dichiarazioni nella giornata di ieri in apertura di seduta, da destra e da sinistra, tutte contro l'Isola d'Ischia. Andremo poi a Procida per quanto riguarda la politica, il sindaco Dino Ambrosino tende la mano al gruppo di Insieme in Movimento e dice che le porte sono sempre aperte e questa sera ascolteremo cosa risponde il consigliere Bartolomeo Scotto di Perta che è ospite della trasmissione settimanale Isola 7 e non da dopo questo telegiornale. Di queste realtà ancora ci occuperemo subito dopo la pubblicità, tra poco. Contri periodici con medico posturale e nutrizionista, allenamenti anche al coperto, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni, sono aperte le iscrizioni. Per informazioni recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la futura. La differenza? Una questione di stile. La Raspata, non solo gelati, congelati e surgelati, da oggi anche salumi, formaggi, prodotti secchi e tanto altro ancora. Scegli le nostre offerte, la soluzione vincente contro la crisi. Chiamaci allo 081 90 27 56 o inviaci una mail a info at laraspata.it per conoscere le nostre proposte. Abbiamo il pacchetto adatto alle tue esigenze. La Raspata, specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arreddamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acquameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Le terme, la grande ricchezza della nostra isola. Da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola, fai bene a te, migliorando la tua salute e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino aspetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola di Ischia. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi. Rivolgiti ad EcoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di EcoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti ad EcoArt. Un marchio ecoferro per una casa sicura ed antisismica. EcoArt. Artigiani per il tuo ambiente. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico EcoArt del dottor Renato Regine. Il centro EcoArt dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico EcoArt effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. EcoArt è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. EcoArt. Tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Ischia, il cane antidroga Chira scova eroina in un deposito. La polizia denuncia una coppia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate anche con tanti ed un bilancino di precisione. Emerge un corpo a largo di ansio, forse lo skipper partito da Procida. Potrebbe essere dello skipper israeliano Doron Nascioni, il cadavere ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Si attende l'esito dell'esame del DNA. Dalla Camera dei Deputati, Ischia epicentro di abusivismo. Nel primo giorno di dibattito, da destra e da sinistra, considerazioni negative sull'isola di Ischia, patria dell'abusivismo. Procida, porte sempre aperte al gruppo Insieme in Movimento. Lo dichiara il sindaco Dino Ambrosino. E questa sera dibattito all'Isola 7 con il consigliere Scotto di Perta. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Tele Ischia. Apriamo con la pagina della cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Ischia, diretto dal vicequestore Alberto Mannelli, hanno effettuato una serie di controlli antidroga sull'isola, denunciando in due diversi interventi tre persone. A Casamicciola, gli agenti, con la collaborazione del cane antidroga Chira della Unità Cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale, hanno scoperto un deposito che nascondeva circa 50 grammi di eroina. Un bilancino di precisione e la somma di 790 euro. Una coppia è stata rintracciata e denunciata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso reato è stato denunciato ancora un commerciante, nel cui negozio i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato poco meno di 20 grammi circa tra hashish e marijuana. E nella giornata di ieri è stato trovato un cadavere nel mare di Anzio, un comune laziale vicino Roma, e potrebbe essere quello di Doron Nashoni, lo skipper di nazionalità israeliana scomparso da due settimane. L'uomo, lo ricordiamo, era in crociera nel Golfo di Napoli con un gruppo di persone che avevano noleggiato approcci da due imbarcazioni a vela presso la società SAIL Italia, una delle compagnie più importanti per l'organizzazione di charter imbarca a vela. Poi, a bordo di un piccolo tender, il 62enne si era allontanato per recarsi a salutare dei compagni di crociera che si trovava su un'altra imbarcazione ormeggiata non molto distante dalla baia di Marina Piccola. Da quel momento non si sono più avute tracce dell'uomo sparito nel nulla insieme al tender e dai remi in dotazione. Secondo i media israeliani sarà il test del DNA ad accertare se il cadavere ritrovato in mare ad Anzio è quello di Doron Nashoni. La pagina dedicata al terremoto, ancora una volta Ischia, al centro del dibattito in Parlamento. Nella discussione sul decreto per gli interventi del dopo terremoto, i deputati di destra e di sinistra hanno contestato l'applicabilità del condone di Lizio, definendo l'isola epicentro dell'abusivismo. Vediamo la sintesi degli interventi. L'isola di Ischia, ancora una volta al centro del dibattito politico, ovviamente negativo. Nel corso della prima giornata di discussione alla Camera sul decreto che comprende gli interventi nel dopo sisma del 21 agosto 2017, il dibattito si è ovviamente concentrato, come era nelle premesse dei giorni precedenti, sull'applicazione del condone di Lizio. Da destra e da sinistra, da Fratelli d'Italia fino al PD, passando per l'EU, i deputati si sono scagliati contro quello che è stato definito un maxi condono tombale, proposto dalla maggioranza per raccattare voti sull'isola. E addirittura Ischia diventa epicentro del fenomeno abusivismo. Esordisce l'onorevole Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, che sottolinea la doppia morale del Movimento 5 Stelle che ha prodotto un maxi condono per gli abusi e dilizi di Ischia. Una manina, dice Fidanza, ha fatto arrivare nel decreto un bel maxi condono per gli abusi e dilizi di Ischia. Compare una bella sanatoria per chi ha costruito anni fa degli abusi e dilizi in quel di Ischia dove si devono andare a raccattare un po' di voti. Da sinistra, la deputata Rossella Muroni di l'EU, senza mezzi termini, ha definito Ischia epicentro del fenomeno abusivismo. Ad Ischia ci sono 27.000 domande di condono su 60.000 abitanti. Sostanzialmente si nasce con un pezzo del debito pubblico e con una richiesta di condono. E però non pensate, dice la Muroni, che sia un fenomeno che riguarda il passato. A Ischia, a maggio 2018, è stata sequestrata un'intera villa abusiva a Casa Micciola, con tanto di ascensore in mare. Solo nel comune di Ischia sono 7.225 le richieste di condono edilizio e dal 2003 al 2016 sono state emesse 1.242 ordinanze di demolizione. È veramente l'epicentro di quello che potremmo chiamare un fenomeno tutto italiano, appunto l'abusivismo edilizio. Lei, relatore, dice la Muroni, se l'è chiesto perché con un sisma di così lieve entità ci siano stati tutti quei danni? Perché le case crollate sono per la maggior parte abusive, non sicure, perché l'abusivismo edilizio aumenta il fattore di rischio e quindi noi andiamo a sanare in un'isola a rischio sismico, a rischio idrogeologico. Anche i deputati del Partito Democratico sono intervenuti alla Camera nella discussione sul decreto terremoto. L'onorevole Chiara Braga ha infatti ribadito che per Ischia è stato realizzato in il più scandaloso condono edilizio tombale. Il vicepresidente Di Maio, dice la Braga, si è fatto garante del più grande scandaloso condono edilizio tombale della storia di questo Paese, più grave dei condoni del governo di Berlusconi. Significa sanare abusi realizzabili in area a rischio idrogeologico, con la beffa di finanziare, con risorse pubbliche dei cittadini italiani, la ricostruzione di immobili abusivi anche in aree pericolose. E sul dibattito politico in corso sull'applicazione del condono edilizio ai leugli terremotati dell'isola d'Ischia interviene l'albergatore Aldo Presutti che difende l'operato del governo. Hanno fatto la scelta giusta, dice lo stesso Ministro Salvini, ha chiarito che non ci sarà un nuovo condono per chi ha costruito in maniera illegittima. Sentiamo Presutti. Dottor Aldo Presutti dell'Hotel Solemar. Parliamo del decreto Ischia, un decreto che in effetti va a legittimare le costruzioni che sono state realizzate in modo legittimo. Non c'è un terzo condono, non ci sarà condono per nessuno. Come la vede lei? Io ritengo che sia una giusta scelta da parte del nostro governo e della Lega che ha sempre dimostrato la legalità in tutto quello che è nel suo programma. La giunta per Ischia ha chiaramente, anche con la modifica che è stata fatta l'altro giorno, chiarito che tutte le persone che hanno avuto o hanno subito dei danni con il terremoto avranno l'aiuto per una ricostruzione della loro abitazione. Però non ci sarà un terzo condono edilizio. Questo è stato chiarito. ragione per cui chi ha costruito in maniera illegale e non avrà nessun permesso, non avrà nessun risarcimento. Questo è definitiva e ritengo che è anche la cosa giusta per l'isola di Ischia. Vanno completate le pratiche di condono però? Diciamo, chi è in regola, chi ha fatto le cose in regola, ragione per cui non avrà da temere. Chi non è in regola è inutile che presenta una richiesta perché non avrà nulla. Se pensano che i solidi furbi possono a questo punto approfittare a discapito alle persone che realmente hanno avuto dei danni, si sono sbagliati. Con la Lega questo non accadrà, con il governo del cambiamento nessuno avrà dei soldi che non merita. Invece chi merita avrà sicuramente un aiuto e potrà risperare nel futuro di avere una propria casa. Le lentezze burocratiche dei comuni però adesso vengono messe sotto accusa perché chi deve avere la pratica di condono esaminata ha bisogno di tempi stretti? Sicuramente su quella questione lì avranno un po' di difficoltà. Chi ha una casa completamente regolare sarà quello che immediatamente avrà la sua agevolazione. Per le altre cose noi conosciamo la burocrazia, in particolare quella dei nostri comuni e anche dell'isola. Purtroppo la burocrazia italiana è quella che ci vorranno tempi più lunghi. Però io credo che le persone che sono stati sempre onesti e hanno una casa fatta con tutti i criteri non avranno questi tempi lunghi e possono sperare in un tempo molto breve. La giustizia prima pronuncia giurisdizionale per l'effettiva applicazione sull'equo compenso. La prima sezione del Tar di Napoli con l'ordinanza odierna si pronuncia via cautelare in favore del ricorso del comitato no gratis a firma di oltre un centinaio di avvocati, tra cui molti isolani, a partire dal presidente dell'Asso Forense, Francesco Cellammare. Una vittoria importante nel maxiricorso patrocinato dall'avvocato Elio Enrichiello che ha ottenuto un provvedimento di sospensione del bando del comune di Marano che prevedeva compensi gratuiti per gli avvocati per giudizi di valore inferiore a 500 euro. L'Asso Forense ischitana ha dato un grande apporto, ha commontato il presidente Cellammare. Sono fiero di appartenere al comitato e mi congratulo con i colleghi Rossi ed Enrichiello per il risultato ottenuto. Trasporti in marittimi non si attenua alla battaglia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sulle navi traghetto nel Golfo di Napoli. Nonostante i buoni propositi delle compagnie di navigazione, siamo ancora all'anno zero. È il commento di Nicola Lamonica dell'Autmare. Sentiamolo. Una battaglia sull'abbattimento delle barriere architettoniche sui mezzi nautici nel Golfo di Napoli, partendo da quelli delle Acaremar, ma evidentemente estesi anche a quelli delle altre compagnie. Una battaglia che è partita da Procida, ma che continua anche su tutto il compagno. Professore Lamonica, a che punto siamo? Siamo ancora all'anno zero. Purtroppo è così. Abbiamo dei contendini ogni tanto. Qualche nave si è ricordato di avere qualche attrezzo a bordo, o si è attrezzato per poter favorire l'accesso ai diversamente abili, ma i rossi siamo ancora all'anno zero. Io ringrazio a questo punto il gruppo di Procida, capeggiato da Milena, da Giacquinto e così via. Questi giovani di Procida stanno cercando di sollevare due problemi. Uno è quello della mobilità per i diversamente abili e l'altro è quello della qualità e quindi anche della certezza del trasferimento. Sono due problemi, due tematiche, sono all'ordine del giorno da sempre, non solo a Procida ma anche sull'isola di Ischio e Capri e che vorremmo prima o poi affrontarle. Ma è difficile affrontarle con un potere regionale che ha rinunciato ad essere parte e diligente nel trasferimento dei traghetti ai privati. Questa è la battaglia politica che bisogna fare, costringere le isole Ischia, Procida e Capri a rilanciare la loro presenza istituzionale nella sede opportuna. La politica a Procida, manterremo aperti i canali con i tre consiglieri di Insieme in Movimento per far continuare la collaborazione. Getta acqua sul fuoco il sindaco Dino Ambrosino sulla posizione assunta dai tre consiglieri che hanno fondato un nuovo gruppo consigliare ed hanno rimesso le deleghe. Ascoltiamo Ambrosino. C'è la critica di questi consiglieri comunali che facevano parte del nostro gruppo, ne hanno formato un altro ma non si sono dichiarati ancora formalmente all'opposizione. Io tenterò di mantenere aperti tutti i canali di contatto affinché in un qualche modo la collaborazione continui. Che hai pensato quando ti hanno rimesso le deleghe con un atto formale e anche pubblico perché tutte le testate locali abbiamo pubblicato la notizia? Penso che per loro c'è stato comunque un dispiacere perché hanno portato avanti un lavoro per un certo periodo e dover rinunciare anche ai risultati che si stanno iniziando a vedere senza altro c'è stato un dispiacere per loro però capisco la coerenza di fare una scelta tra una collaborazione diretta con l'amministrazione e prendere un attimo le distanze. è comprensibile ed è rispettabile. Senz'altro io non sono stato e non sarò tra quelli che alza i muri o va contro persone che hanno contribuito alla vittoria, alla costruzione di un progetto periodico per cui io li potrò sempre e solo ringraziare per il lavoro che ci hanno messo, l'impegno che ci hanno messo per portare avanti le cose. Nuovo appuntamento questa sera con la trasmissione settimanale di approfondimento l'Isola 7. Questa settimana obiettivo puntato su Procida, in discussione proprio il rapporto tra la maggioranza ed il nuovo gruppo insieme in movimento. Ne dibatteranno in studio il consigliere comunale Bartolomeo Scotto di Perta, uno dei tre, ed il giornalista Cristiano Esposito. Saranno affrontate anche le problematiche che interessano l'isola, la mobilità, l'edilizia scolastica, l'area marina protetta e i lavori pubblici. Appuntamento quindi subito dopo questa edizione del giornale. Procida sottoscrive il piano per il lavoro della Regione Campania, infatti la Giunta di Luca ha approvato il piano per dare via 10.000 assunzioni nella pubblica amministrazione. Il Comune di Procida, su proposta dell'assessore Rossella Lauro, il 17 ottobre ha approvato la delibera per sottoscrivere questo accordo. Il mio impegno, dichiara l'assessore Lauro, in questi anni si è concentrato anche sull'innovazione, garantendo e proponendo servizi online per semplificare le procedure. Questi servizi devono essere accompagnati da personale con competenze anche digitali. Per il Comune di Procida, a fronte dei tanti pensionamenti, è nata quindi l'esigenza e la necessità di inserire giovani capaci e competenti per dare servizi efficaci ed utili ai cittadini. Il Consigliere Comunale di Minoranza di Procida, Menico Scala, ha inviato un'interrogazione sulla tassa di sbarco. Il 13 agosto scorso il Consiglio Comunale, dice Scala, ha approvato la delibera relativa al regolamento del contributo di sbarco, col quale veniva proposto un aumento da 2 euro a 3 euro a partire dal prossimo 1 gennaio. La delibera per Scala è viziata da incongruenze giuridiche. L'aumento del contributo di sbarco è illegittimo per Menico Scala, anche perché, oltre all'importo di 2,50 euro, la legge ne impone l'applicazione per periodi inferiori all'anno. Dunque, il Consigliere di Opposizione Interno dell'Amministrazione per conoscere se intende modificare questa delibera ritenuta illegittima, evitando conseguenze deleterie e se intende ancora valutare la possibilità di tramutarla in imposta di soggiorno. Torniamo sull'isola d'Ischia. A Forio la politica vive un periodo di stasi. Secondo l'ex consigliere Nicola Nicolella, la causa starebbe nella inesperienza degli attuali consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Il ruolo dell'opposizione per Nicolella è difficilissimo, si tratta di pungolare l'Amministrazione Comunale. Ascoltiamolo. Il ruolo dell'opposizione a Forio viene svolto in modo attivo, secondo te, oggi? Io credo che oggi Forio stia attraversando un periodo di stasi determinato dall'inesperienza dei consiglieri comunali, sia di maggioranza che dell'opposizione. Anche tra le file dell'opposizione abbiamo neoconsiglieri comunali che forse non soltanto hanno poca esperienza da un punto di vista amministrativo, ma hanno a maggior ragione poca esperienza da un punto di vista proprio della funzione e del compito dell'opposizione. L'opposizione ha un ruolo difficilissimo, peggio di quello, più difficile di quello di amministra attivamente, è quello di pungolare la maggioranza, pungolare l'amministrazione, cercare di mettere in risalto le pecche o quello che dovrebbe essere fatta, sia con proposte sia con critiche. Cosa consigli al gruppo di Stani Verde? Su quali argomenti intervenire? Ma vedi, io credo che Forio abbia dei problemi, dei problemi seri, il primo appunto è quello della nettezza urbana, il secondo secondo me è quello dello sviluppo economico, nel vero senso la parola, del porto. Il porto porta, scusate, il bisiccio di parola, ma porta meno di quello che realmente potrebbe portare, ma in termini economici e di sviluppo per l'intero indotto, non tanto per le casse dell'azienda o della società che gestisce il porto. Un'opera tanto importante quanto quell'opera porta economia all'intero paese. Questi sono due problemi che, e poi c'è anche, a mio modo di vedere, il problema dell'estetica cittadina che deve essere affrontata. Io credo che sia forse necessario che oggi l'opposizione, al di là di quello che può essere gli atti amministrativi quotidiani che fa l'amministrazione e la maggioranza, io credo che debba concentrarsi su questi tre problemi al fine di pungolare la maggioranza proprio nella direzione giusta. Oggi Francesco Eldeo ha amministrato cinque anni, inizia il secondo mandato, e credo che almeno questo secondo mandato, al di là di quello che lo stesso Eldeo ha detto circa la massa debitoria che c'era precedentemente e che in effetti andava eliminata, oggi questi cinque anni, i nuovi cinque anni, devono essere rivolti veramente al fare e non certamente soltanto semplicemente a togliere i debiti, anche perché io sono sempre dell'idea che possono essere anche fatti i debiti, ma se quei debiti portano investimenti, portano ricchezza al paese. Prosegue l'operazione Ischia Clean Blitz di pulizia dei fondali attorno all'isola. Nella sola giornata di ieri sono stati raccolti ben sei quintali di immondizia, ha commentato il direttore dell'area marina protetta Antonino Miccio. Sui fondali marini di Ischia abbiamo trovato di tutto, pezzi di barche, bottiglie e sacchetti di plastica, lattine, un cappello, un super liquidator, tubi di plastica, molte carte di caramelle, posate e bicchieri di plastica, cassetta per la frutta rotta e ancora nasse, un secchio, bottiglie di vetro, copertoni di ruote, pezzi di barche di vetroresina, tubi di plastica, pezzi di rete, cime, lattine di alluminio, ciabatte in plastica e mazze di scopa. Il tutto induce ad una riflessione su quelli che sono i nostri comportamenti. Oggi le operazioni sono proseguite con il nucleo subacqueo dell'arma dei carabinieri, la guardia costiera, pescatori e volontari. Intanto è stato rinviato al prossimo 2 novembre il briefing stampa a causa della previsione del mare molto mosso per sabato mattina quando era già previsto il briefing originariamente. È stato inaugurato oggi all'Istituto Telese di Fondopossa d'Ischia, Villard, un seminario itinerante di progettazione architettonica a cadenza di anno accademico. Il programma prevede la presentazione di un progetto architettonico legato alle realtà territoriali. Il convegno di Ischia proseguirà domattina, venerdì alle 9.30, presso la sala della Lega Navale al Palazzo d'Ambria sul Porto. Sabato mattina invece l'appuntamento sarà presso la biblioteca Antoniana. Vediamo i servizi. Presso l'Istituto Telese di Ischia è iniziato oggi un seminario a cura di Villard, si tratta di un seminario di progettazione architettonica, adesso ne parliamo con il referente nazionale. Allora, di che cosa si tratta? Villard è un'esperienza formativa per studenti universitari che integra in qualche modo i corsi tradizionali all'interno delle singole università con un'esperienza particolare che parte dall'assunto che il viaggio possa costituire l'elemento principale per la conoscenza delle città, dei territori, delle culture ma anche della conoscenza con altre scuole di architettura. Quindi la nostra rete, una rete interuniversitaria costituita da 14 università italiane e internazionali, costituiamo ogni anno una classe, potremmo dire, di circa 100 studenti che per tutto l'anno accademico, una volta al mese, si riunisce in una particolare sede e in qualche modo si appropria delle conoscenze che quella città e quella sede riescono a dare. Quest'anno è il ventesimo anno, è il venti anni che questo seminario è in piedi, questo ventesimo anno abbiamo deciso insieme agli amici della Federico II di Napoli di svolgerlo qui ad Ischia perché ogni anno noi scegliamo una città, un territorio su cui affrontare delle questioni emergenti che i territori pongono, che le città pongono e ci sembrava che Ischia potesse in questo momento, come anche altre situazioni nel territorio italiano, costituire un campo di sperimentazione e di ricerca molto importante, non solo per ciò che è accaduto ma soprattutto per ciò che si potrà fare affinché certe cose non accadano più. Professoressa Pagano, sono tanti gli studenti che sono venuti a Ischia, il focus qual è quest'anno in particolare? L'idea, noi abbiamo individuato insieme a Paola Galante un tema generale che rappresenta una sorta di falsariga di fonda che è quella dell'acqua. L'acqua che in questo caso vuole rappresentare sia un'idea d'inizio, sia quella che è una particolarità poi di Ischia, quindi le sue acque termali, sia il rapporto con il mare. Ma quello che ci interessa soprattutto appunto di questa esperienza che in realtà poi ha scelto le sue aree di progetto tutte ad Ischia Porto è quella appunto di un luogo che, come diceva prima Marco, contenga all'interno tutta una serie di temi. Quindi Ischia è vista un po' come il luogo degli inizi, degli inizi potremmo dire della cultura classica in Occidente ma anche degli inizi di quella che è stata tutta la città di Napoli. E appunto questa idea dei tempi che tornano, c'è oggi la città metropolitana, questo è il luogo più antico della città metropolitana. Quindi lavorare su Ischia per noi non significa lavorare su una realtà marginale ma lavorare sul luogo delle origini di questa città. Lo sport, come lo scorso anno, l'atleta isolano Elio Buonocore conquista l'oro nella sua categoria, 60-64 anni, nella disciplina dell'Aquatlon, titolo conquistato ad Ibiza con un vantaggio di 1,40 sul secondo e 2,15 sul terzo. Battuto il tedesco Lerman dato per favorito e l'austriaco Ersch che è arrivato quarto. Gli appuntamenti, l'AREC, l'associazione di ex consiglieri regionali ed ex parlamentari, ha organizzato il convegno Art Bonus, fare in mecenate conviene. L'appuntamento è per i giorni di venerdì e sabato all'hotel Miramare Castello di Ischia. Domani, venerdì, nel pomeriggio alle 16, dopo i saluti dei sindaci di Ischia e di Barano, Ferrandino e Gaudioso e del senatore De Notaris, del coordinamento degli ex parlamentari, ci sarà la relazione introduttiva di Vincenzo Maggioni. Sabato mattina dalle 9.30, dopo i saluti del vice sindaco di Ischia di Vaia e del preside dell'Istituto Alberghiero Siloni, interverranno Francesco Bianco, docente di diritto amministrativo, Franco Iacono, già assessore regionale ed europarlamentare ed Antonella Marciano, responsabile del settore turistico dell'assessorato regionale. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, sguardo al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Revisioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schierite alternate, a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Revisioni per domani. Al mattino, sulle coste, schierite alternate, a nubi sparse. In montagna, parzialmente muvoloso, con schierite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste schierite alternate a nubi sparse in montagna schierite alternate a nubi sparse bene si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale come ogni giovedì vi lascio l'appunto a vento con l'approfondimento con l'isola 7 per parlare di politica approcida noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci a